Che stranezza di posto, che stranezza di gente! Alice però non si sente in pericolo e decide di stare a sentire quello che Pinco Panco e Panco Pinco hanno da dire. Ma, quello che devo fare... Ma, ma che ti ha un piccolo idea dove? Pinco Panco e Panco Pinco! Oh, se ci fanno il portico, vado in patata a venermi! E se ti chiedi per te le vedi, ti dovrei più salutarti! Non so se ti chiedi per te le vedi, ti dovrei più stare a venere! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.